e benvenuti ragazzi e bentornati in questo nuovo video vi annuncio che sto guarendo dal raffreddore l'influenza sì che l'avevo già fatta sentire oggi vi farò vedere tutti i miei palloni da calcio e ho paura perché sono veramente tanti e in più la ne vedete un'altra la vedete un altro adesso li devo tirare fuori tutti ve lo assicuro ragazzi che sono molti ma intanto ci sono questi che dopo vi faccio vedere dopo che vi faccio vedere ragazzi sentite ragazzi io stoppo il video perché l'ho detta quando ho finito di tirare fuori tutti perché sono veramente tanti ragazzi lo tirate fuori tutti e quale venete altri quindi iniziamo a farvi vedere quelli che già vedete allora adidas questo qua tutto arancione fluo e anche con un tocco di blu e questa cosa loro l'ho fatta io merito mio sta cosa qua ok non è fatto vedere se se volete vederlo bene eccolo qua dove l'ho ecco qua adidas e prima la palla ok quando vedete poi questo qua guardate questo qua è un altro dell'adidas è verde nero e grigio questa palla è molto più bella di prima non lo so se è bella poi ci senta cui piace adidas e che tra l'altro c'è ancora questo non lo scansionate eccolo qua non è tanto recente questa pallone quale vedete questa qui non vedete questa qua vedete questa è una delle piccole che ho disegnato tutte che ho disegnato tutte ma mio fratello ecco questa è della germania ragazzi germania gialla forse è anche un po' sgonfia con questo e l'ho rotto io qua ecco qua ok in quale vedete questa qua questa qua della fifa world cup rossa e bianca molto bella sempre dell'adidas e non so se sia vera o falsa questa poi che sono già quattro palloni che vi ho fatto vedere poi voi vedete questo che wilson graffiti wilson molto carina questa palla anche questa un po sgonfia non capisco neanche il perché graffiti wilson official size e si è mosso da solo così e quinta fatto vedere ora quale vedete voi questa qua vedete questa un'altra grande tutta rovinata qua dietro della poma grigio arancione ed è così questa qua dai carinissima e poi poi c'è scritto anche team female 6 6 ok sei palloni già e rimangono molti altri da qualcuno vedete questo qua allora questo è un altro pallone della poma rovinato è molto sgonfio guardate e sgonfio e comunque è grande ecco qua un altro della poma anche questa l'etichetta è rovinata ok ragazzi ve lo fate vedere ora quale che vedete questa qui vedete questa qua dell'italia ragazzi questo è dell'italia molto bella questa qua dell'italia si sgonfia dovrei gonfiarle con la bandiera dell'italia qua e sono 3 no 3 1 2 3 4 5 6 7 8 per adesso 8 ragazzi guardate che vedete non più passiamo questa qua qua poi ci sono alcune ragazzi che sono sporchissime perché lo usate al campetto e k molto molto classica non ha niente di bello poi possiamo questa dell'adidas è molto vecchia tu addasso giallo e nero con lo scontrino ancora qua c'è lo scontrino la cosa la vera e poi questi vi ho fatti già vedere ma mi da fastidio che se che se ne scano così li mettere un po la così state zitti e non rompete ok questo alla fine non è vero della champions league piccolo dell'adidas e della champions league dove eccola qua eccolo qua beh carino ma è in piccolo è la meglio grande passiamo ad un altro rovinato della spagna eccolo qua spagna rosso e bianco è sempre con la cosa della spagna la bandiera della spagna la bandiera della spagna cosa un po più gonfia della della quella dell'italia oh è posto con queste palle che vi ho fatto già vedere ok passiamo questa che la vedete questa qua mini dell'adidas classica blu e bianca mini c'è scritto anche qua ok questa non serve c'è c'è non è tanto bello passiamo oltre della puma rovinata purtroppo che vedete che sporca team final 6 come quella però è rossa e bianca scusate perché c'è anche quella rossa blu e bianca scusate poi c'è quella che è una squadra di serie a che magari dei tifosi potrebbe piacere quella del napoli dove lo scudetto del napoli eccolo qua scudo del napoli scudetto del napoli questo è del napoli sempre cappa e c'è lo scudetto del napoli basta però non ho quella della giuva forza giuva sempre fino alla fine ok allora passiamo a questa qua eccola qua una della puma che è l'ultima che ho preso è l'ultima palla che ho preso in in questi giorni quella della puma bianco nera quindi un tipo io ma questa l'adoro anche perché è bella gonfia ed è bianca bianca proprio raga più bella di tutte per adesso possiamo quella che vi avevo promesso quella rossa che c'è questa qua però questa è rossa e non è neanche rovinato ma in realtà qua c'è un vabbè sempre della puma ma rossa l'avevate già vista però questa è rossa questa qua perché si è messa qua alcune le dovrò messi e però alcune le dovrò mettere sotto il letto questo è di bianco neri ragazzi non c'è un sembra della giuva forse della giuva di scritto stella z qua però non è della giuva originale con sta palla roto poi se avete visto questa avete visto quella blu e ora c'è quella in tutti i colori queste qua i tre modelli ragazzi guardate i tre modelli che è bello queste due il terzo è qua i tre modelli sono questi credo sì tre modelli easy peasy queste vanno sotto il letto poi c'è questa dell'adidas molto gonfia non è vero però è sempre dell'adidas eccola qua abbastanza gonfia per andare a fare una partita di calcio poi c'è questa tutta rovinata sempre dell'adidas infatti la maggior parte credo che siano dell'adidas non si vede neanche il logo dell'adidas guardate perché tutta nera che schifo ho usato io il coltetto poi c'è questa qua non è rovinata questa cappa blu e e bianca classicissima proprio poi c'è questa qua rovinatissima questa però l'ho usata mio fratello della nike la prima della nike eccola qua la prima è l'unica ma non si tre ancora due ne ho di nike sportissima la odio possiamo la prima alla seconda della nike questa qua eccola qua e anche questa era molto rovinata e adesso passiamo a una squadra che è una nazione cioè la francia ragazzi sempre della nike francia to beccati sto bel pallone poi c'è anche lo stemma della francia cioè vabbè la bandiera della francia noi ne vengono tre tre palloni questo qua della puma che c'è sempre della puma verde bellissimo è sgonfissimo è sgonfissimo raga sgonfissimo vabbè schifezza e adesso passiamo i due miei preferiti alla fine ragazzi il mio preferito questo qua che è classico un po c'è il minuscolo anche ragazzi passiamo al mio preferito ed è il pallone ufficiale della serie a serie a ragazzi pallone ufficiale della serie a della puma ragazzi lo conoscete tutti però è stimo ragazzi e adesso qua vedete pallone ufficiale serie a 2022 2023 eccolo qua e ragazzi tutti i miei palloni e tra l'altro qua spero che il video ci sia piaciuto ciao ciao